Capitolo 24 Mi lavo i denti nel modo più eroico possibile Dopo un fine settimana privo di eventi, Annabeth fece irruzione in camera mia alle 4.30 di lunedì mattina, cosa che sembra molto più eccitante di quanto fu in realtà. Avevo fatto uno strano incubo sugli dèi. Le divinità dell'Olimpo erano sedute al tavolo da pranzo della mia famiglia e annunciavano di essere in dolce attesa. Era incinta, Afrodite incinta, Efesto pure. Apollo era sicuro di stare per avere due gemelli. Dopo ogni annuncio Zeus sollevava il proprio bicchiere da asporto del Limbo Juice e gridava un brindisi. Dopodiché tutti gli dèi mi svuotavano addosso i loro bicchieri come se fossimo alla proiezione di mezzanotte del Rocky Horror Picture Show. Mi svegliai al suono della lama del pugnale di Annabeth che scorreva sulla serratura della finestra di camera mia. Avrebbe potuto bussare, ma immagino che le piacesse la sfida. Fece scivolare verso l'alto il pannello inferiore ed entrò dalla scala antincendio. Ma quale luce apre l'ombra da quel balcone? Dissi. Annabeth sorrise. Mi lascia di stucco che tu citi Shakespeare. Cito il bigino, mi stropicciai gli occhi. Avevo ancora nelle narici il ricordo del brindisi di Zeus. Ero davvero felice di essermi svegliato prima che il poseidone del sogno mi mostrasse il proprio pancione. Poi abbassai lo sguardo e cominciai a sentirmi in imbarazzo per la maglietta logora che avevo indosso. Mi domandai se avessi della saliva incrostata sul mento. Come mi dice spesso Annabeth quando dormo sbavo. A cosa devo tutto questo? Chiesi. Annabeth indossava pantaloni cargo, canottiera e scarpe da jogging, il che mi fece sospettare che non si trattava di un evento sociale. Non riuscivo a dormire, rispose. Ho pensato che tanto valeva partire prima. Si tolse lo zaino dalle spalle e tirò fuori la fialetta con lo scintillante liquido dorato di iride. Quella roba mi manda fuori di testa, dissi. Sembra miele radioattivo. No, non è radioattivo, scosse la boccetta facendola brillare. Volevo saperne di più su come funziona il nettare concentrato, così ho parlato con Juniper. Mi misi a sedere dritto. Sei andata al campo questo fine settimana? Ho solo mandato un messaggio iride. Annabeth si sedette sul bordo del letto. È saltato fuori che la congrega delle driadi conserva il nettare concentrato in cantina per le emergenze speciali. La congrega delle driadi? Esiste una cosa simile? Immaginai un gruppo di signore con indosso vaporosi abiti verdi e marroni che danzavano intorno a un albero su cui erano appesi cristalli curativi, come una convention di cosplayers della cantante Stevie Nicks. Annabeth si portò un dito alle labbra. Non l'hai saputo da me. A quanto pare il nettare concentrato può guarire uno spirito della natura in punto di morte, ma è rischioso. Una volta una driade della quercia gravemente ustionata è diventata un pezzo di marmo dopo la rianimazione. Mi stropicciai di nuovo gli occhi. Mi domandai se stessi ancora dormendo perché mi sembrava che Annabeth fosse seduta sul mio letto a parlare di alberi e rocce. Ok. E poi la parola nettare in greco antico significa sconfiggere la morte. Lo sapevi? Mi rimetto a dormire. Aspetta, adesso viene la parte importante. Juniper mi ha detto che questa roba è talmente profumata che una sola zaffata può mandare in coma un semidio. Finalmente aveva la mia attenzione. Perché Iride non ce ne ha parlato? Probabilmente non ce ne ha neppure pensato, rispose Annabeth, ma visto che non abbiamo tempo per entrare in coma... Frugò nello zaino e tirò fuori un pacchetto di fazzolettini di carta e un barattolino di unguento al mentolo. Ci tappiamo il naso prima di stappare il nettare. Geniale, commentai, anche se mi stavo immaginando come saremmo stati belli a spasso per il Greenwich Village con zanne di fazzolettini di carta che ci spuntavano dalle narici. Sì, pericolo scongiurato, concordò Annabeth. In ogni caso, adesso devo un favore a Juniper. Sembrava che stesse pensando a un modo per sdebitarsi con lei e se all'edriadi piacevano i cupcake. Come sta? Domandai. Annabeth mi diede un colpetto affettuoso sul ginocchio. Devi aver dato dei buoni consigli a Grover. Si è scusato con Juniper e ha trascorso un po' di tempo con lei a piantare alberelli nella foresta. Pare che tra loro vada di nuovo tutto bene. Ehi, quando si tratta di consigli su come essere il ragazzo perfetto... Annabeth rise, poi diede un'occhiata alla parete con un certo imbarazzo. Ho fatto troppo rumore. Non voglio svegliare Sally e Paul. Nessun problema, rassicurai. Le pareti di casa erano sorprendentemente spesse, senza contare che la cosa peggiore che poteva accadere se mia madre avesse udito Annabeth in camera mia era che le avrebbe offerto una tazza di tè. È strano quello che avviene quando i tuoi genitori ti accettano, ti sostengono e presumono che tu faccia la cosa giusta. Finisci per avere voglia di fare la cosa giusta. Almeno questa è la mia esperienza, ed è di me che stiamo parlando. Mia madre ha più motivi per preoccuparsi della maggior parte dei genitori. Dopo anni di scuola, di estati al campo e di mesi trascorsi in viaggio a combattere mostri, non ero ancora abituato a stare a casa a tempo pieno, ma dovevo ammettere che vivere con mia madre e Paul era una pacchia. Qualche ripensamento? mi chiese Annabeth. Capì che aveva decifrato la mia espressione. Su cosa? Lasciare New York, con il bambino in arrivo e tutto il resto. No, davvero, stavo solo pensando come è stato bello vivere a casa per un po', e i miei sembravano così felici a cena. Chissà come sarà per mia madre avere un bambino normale. Non credo che Sally potrà mai avere un bambino normale, replicò Annabeth, perché lei non è normale, e nemmeno Paul lo è. Vero, il piccolo probabilmente nascerà come Batman. Niente superpoteri, ma sarà comunque un mostro di bravura con sei lauree. Adesso mi sto immaginando il neonato in una tutina con le orecchie a punta. Grover ne sarebbe contento. Annabeth sbuffò. Sto solo dicendo che non è un problema se sei combattuto fra lasciare... mi chinai verso di lei e la baciai. Nessun conflitto, nessun ripensamento. Te l'ho detto, non ti lascerò mai più. Ok, Annabeth arricciò il naso. Anche se non è un problema se ti vuoi allontanare qualche minuto per lavarti i denti. Hai un alito un po'... Ehi, mi hai svegliato tu. Il che mi fa tornare in mente, sollevò la fialetta di nettare concentrato. Dobbiamo muoverci alla svelta. Ma è prestissimo. Lo so, ribatté. Però ti ci vogliono 30 minuti per prepararti perché sei lento. Come hai detto, scusa? Ci servono 45 minuti per raggiungere Washington Square Park. Poi dobbiamo occuparci della missione e sincerarci che tu riesca ad arrivare a scuola in tempo. La matematica. Annabeth ha questo potere magico, grazie al quale è in grado di vedere il futuro e calcolare quanto tempo ci vuole per fare certe cose. Lei lo chiama programmazione, cosa che annulla completamente il mio potere magico della procrastinazione. Andai in bagno a prepararmi. 30 minuti? Ok. Come no. Rapida doccia, vestirsi al volo, lavaggio denti, scarpe. Mi ci vollero 31 minuti. Stupido potere magico della programmazione. Alle 5 e un quarto sgattaiolammo fuori di casa per prendere il treno, verso quella che avrebbe potuto essere la mia ultima occasione per recuperare il calice di Ganimede. O forse non avremmo trovato Gary e la giornata si sarebbe trasformata in un normale lunedì di scuola. Sinceramente non sapevo cosa mi spaventasse di più. Capitolo 25. Conosco il ladro di Cammie.